Caro Meda, innanzitutto ciao, come stai? Io sto alla grande. Tu adesso non lo sai, ma non puoi neanche immaginare come cambierà la tua vita e tutte le grandi cose che accadranno. Ovviamente ci saranno anche dei momenti brutti, ma non voglio spoilerarti niente. Voglio che tu viva ogni giorno al meglio, guardandoti di tutte le sensazioni che ogni singolo giorno può darti. Tu però ora concentrati sul tuo presente, vivi la tua vita come fai sempre, senza pensieri e... ah cavolo, quasi mi dimenticavo. Io non mi sono ancora presentato, anche se ormai l'avrei già capito. So quanto tu sia intelligente. Esatto, io sono te del futuro, esattamente te tra 11 anni. Ora sono molto diverso, ma penso che mi riconosceresti subito. Il nostro viso non è praticamente cambiato nel corso degli anni, a parte i capelli, ma comunque non è questo l'importante. Non mi rimane molto tempo e devo dirti un sacco di cose. Ovviamente non posso dirti moltissimo, ma qualcosa posso ancora scriverti e anche qualche consiglio. Primo, i bulli che al momento ti prendono di mira? Beh, posso solo dirti di stare allerta e fare attenzione al regalo di Giuseppe. Ti consiglio di non portarlo a scuola. Però sappi che non dovresti sopportarne ancora a lungo. Secondo, so che sei un po' timido e introverso, ma sappi che tra qualche anno non sarai più tanto solo. Esatto, avrei un bel po' di amici, soprattutto alle superiori. E terzo, sta attento la notte quando fai finta di dormire per leggere i libri di Percy Jackson e le dell'Olimpo. Adesso, però, devo proprio scappare. Non ho più tempo. Devo andare. Ci vediamo. Ciao.